Come sta andando davvero il prestito di Luciana Goumet con la maglia del Brest? Lo vedremo in questo nuovo contenuto nel quale analizzeremo non solo la stagione, i numeri, statistiche, l'evoluzione di Luciana Goumet in Francia, ma vedremo anche eventualmente quali di percussioni potrebbe avere a partire dal prossimo anno in maglia nell'azzurra o eventualmente sul mercato in uscita dell'Inter. Amici e amici di Passione Inter, ben ritrovati, nuovo episodio, nuovo approfondimento per un giocatore che è tanto amato, desiderato, atteso soprattutto da parte dei tifosi interisti come Lucian Goumet, individuato come il nuovo Marcelo Brozovic o quantomeno in una fase iniziale come il possibile vice Brozovic dal momento che se ne parla sempre tanto, un ruolo che in questo momento effettivamente è scoperto all'interno della rosa di Simonin Zaghi e lo abbiamo visto soprattutto nel periodo in cui Marcelo Brozovic è stato assente per un infortunio al polpaccio. Iniziamo con la formula con la quale la scorsa estate è andata al Brest, un prestito secco per cui non c'è possibilità per la scuola francese di riscattare il centrocampista classe 2002, non è la prima esperienza in prestito perché l'Inter lo aveva acquistato nell'estate del 2019, lui si era messo in mostra inizialmente in serie B francese, la lead con la maglia del suo show, era stato acquistato dall'Inter, una stagione in prima squadra e poi spedito nella stagione 20-21 allo Spezia, con lo Spezia, con in panchina Vincenzo Italiano l'ha fatto benino solamente nella fase centrale nella quale aveva trovato anche continuità davanti alla difesa, parleremo poi del ruolo di Luciano Agumè senza però né iniziare né concludere bene la stagione in Liguria. Diversamente da ciò che sta succedendo invece adesso al Brest, vi ricordo prima di parlare poi del rendimento che lui ha rinnovato con l'Inter lo scorso agosto, prima di partire e tornare in Francia in questa esperienza, fino al 2025, significa che comunque l'Inter a prescindere ci punta sul ragazzo. Poi vedremo cosa accadrà la prossima estate, vedremo tutti gli scenari in questo video, però è sicuramente un giocatore per il quale l'Inter un futuro lo intravede, ma vedremo, vedremo nel corso di questo nuovo episodio. Partiamo dal bilancio complessivo di Luciano Agumè in questa stagione, in campionato 25 presenze, 20 dal primo minuto, una media di 71 minuti a partita, quindi una media piuttosto alta, abbastanza positivo anche perché se guardiamo non solo le partite di Agumè, poi faremo una riflessione specifica, ma anche il rendimento della squadra, comunque il Brest è andato al di sopra delle aspettative stagionali in questo momento, si trova all'undicesimo posto. Una squadra che era stata costruita inizialmente per non retrocedere, per comunque lottare verso una salvezza, ampiamente ottenuta, si ritrova all'undicesimo posto. Sorpresa del campionato, era partita abbastanza bene questa formazione, poi ha avuto un calo nella fase centrale, nelle ultime settimane invece è ritornata ai livelli di inizio anno. Una squadra nella quale è fondamentale la presenza di Luciano Agumè. Sul bilancio ci concentreremo un po' più avanti in questo contenuto perché faremo un parallelismo, un confronto con Marcelo Brozovic per vedere alcune statistiche veramente molto curiose e molto interessanti. Prima però voglio parlarvi del ruolo. Luciano Agumè viene considerato dall'Inter il possibile vice Brozovic ormai da qualche stagione. Inzaghi lo ha anche conosciuto per un paio di settimane, la scorsa estate anche qualcosa in più in realtà, e lo aveva inizialmente, non dico bocciato, visto che è comunque un giocatore molto giovane, un classe 2002, però rimandato. Per questo motivo era stato poi mandato fuori in prestito. Gioca davanti alla difesa, non solo nelle idee dell'Inter, ma anche praticamente. Albrecht sta giocando in quel ruolo lì, in un centrocampo a tre, sta facendo tanta esperienza. Sta crescendo soprattutto nella fase di non possesso, di interdizione, probabilmente anche per le sue caratteristiche fisiche. Un giocatore molto alto, un'85, bravo sulle palle aeree, difende abbastanza bene, quindi questo può essere in ottica futura un punto a suo favore, visto che all'Inter sappiamo che davanti alla difesa si richiede al giocatore che viene scelto non solo grande proprietà di palleggio, tecnica, visione di gioco, ma anche grande interdizione. Un fondamentale sul quale ha lavorato tantissimo Brozovic negli ultimi tre anni. Da quando è arrivato Antonio Conte, anche sotto quell'aspetto è cresciuto veramente tanto. E quello lì, dobbiamo dire, è il ruolo effettivamente di Luciana Goumet. Sta giocando in un campionato che è abbastanza competitivo, è comunque quinto il campionato francese secondo il ranking UEFA. Il campionato italiano è terzo, al quarto posto c'è invece quello tedesco, per cui ovviamente due gradini più giù rispetto a quello italiano in termini di livello, però il campionato francese è comunque diventato importante negli ultimi anni, grazie ai tantissimi investimenti del Paris Saint-Germain, ma anche alla presenza di squadre come il Lione, squadre storiche, Marsiglia, Monaco, il Lille, che negli ultimi due anni ha fatto tanto bene. Nello scorso anno ha vinto addirittura il campionato da vera outsider. In ogni caso è un campionato che scommette tantissimo sui giovani e lo dimostra anche il Brest, che ha scommesso la scorsa estate su Luciana Goumet e nel mercato invernale su un altro nerazzurro, del quale parleremo più avanti, Valadiré Satriano. L'attaccante che sta facendo benissimo, rendimento molto positivo con la maglia del Brest, un prestito che sicuramente lo sta facendo crescere, non solo perché ha trovato minuti, ma anche gol fiducia e quindi per un giovane ragazzo, Satriano è un classe 2001, è molto importante. Però nel suo caso, visto che è andato in prestito a fine gennaio, faremo un nuovo contenuto un po' più avanti, aspetteremo quindi la fine di questa stagione per valutare complessivamente come è andato. Questo sul campionato francese, dunque, che comunque, in ogni caso rappresenta un buon trampolino di lancio per i giovani ragazzi, ma lo abbiamo visto negli ultimi anni, tantissimi talenti sfornati da varie squadre, il Monaco ad esempio, il Lille ultimamente, che è dotato di uno scouting davvero fantastico. Parliamo però della possibilità di un ritorno di Agumet all'Inter, perché effettivamente il Brest non potrà riscattare, comunque non era stabilito un diritto o obbligo di riscatto al momento della cessione in prestito, per cui ritornerà all'Inter. Ma l'Inter vuole davvero puntare su Luciano Agumet, vediamo se è davvero pronto per poter quantomeno ambire al ruolo di vice Brozovic. Abbiamo preparato alcune statistiche in riferimento a questa stagione, ma anche le hitmap di Agumet da una parte, e Marcelo Brozovic dall'altra, perché ci fanno capire perfettamente come potrebbe incastrarsi eventualmente il ritorno di Agumet all'Inter. Questa è la hitmap di Agumet, che assume ancora più senso nel momento in cui vedremo l'hitmap di Marcelo Brozovic. Gioca lì davanti alla difesa, si muove tanto, destra e sinistra, perché comunque, come vi dicevo, in fase difensiva ha giocato una buonissima stagione in questo momento. Lo dimostrano le statistiche, ve ne leggo una, ad esempio, qualcuna, sulle palle intercettate a partita. Siamo a due palle intercettate a partita nel confronto con Marcelo Brozovic, nel caso del Croato parliamo di un pallone, virgola due, intercettato a partita. Quando parliamo di tackle, due virgola tre di Marcelo Brozovic, mentre nel caso di Agumet sono due. Possessi vinti, ad esempio, 0,4 per Agumet a partita, 0,3 per Brozovic, ottime statistiche da questo punto di vista. E lo vediamo comunque, un giocatore che dà presenza difensiva. Poi la hitmap non dice tutto, ma ci dà un bel punto di riferimento. Vediamo però l'hitmap di Marcelo Brozovic, perché qui possiamo fare un ragionamento diverso anche dove, su cosa può migliorare e deve migliorare, Luciana Goumet per poter giocare all'inter, vale a dire, la fase di possesso. Ecco qui l'hitmap di Marcelo Brozovic. Ovviamente nel confronto c'è una grandissima differenza. Luciana Goumet riempiva soprattutto questa parte, quindi, nella propria metà campo, con le zone rosse, che indicano le zone di maggiore copertura da parte del calciatore, però in questo caso Brozovic copre davvero tanto, cioè non ci sono delle zone gialle, solamente qui all'estremità, ma la parte centrale è tutta rossa. E anche qui davanti, eh, Goumet non aveva grandissima copertura. Arrivava qui fino al centrocampo, invece Brozovic è un giocatore che gioca a tutto campo, per cui, da quel punto di vista, quindi occupazione del treno di gioco, lì deve migliorare. Presenza, presenza in fase di possesso. Evidentemente Brozovic all'Inter ha una centralità che Goumet non ha in fase di possesso al Brest, e questo è naturale, ci può stare, è un classe 2002, Brozovic è un giocatore di grandissima esperienza, che comunque non era nato per quella posizione, ma l'ha dovuto imparare. E poi, insomma, negli ultimi anni sta dimostrando di essere tra i migliori nel ruolo. Quindi, comunque, il confronto è ingeneroso a prescindere nei confronti di Goumet. Però, ecco, ci sono margini di crescita importanti, e stiamo vedendo dove può effettivamente crescere. Altre statistiche, in questo caso, in fase di possesso, Lusena Goumet tocca il pallone con una media di 49,1 partita, Marcello Brozovic 84,3. E qui la differenza già è abbastanza netta. Se in fase di interdizione le statistiche erano piuttosto simili, in questo caso, invece, la differenza è netta. Poi abbiamo, invece, un assist per Marcello Brozovic, che ha segnato anche due gol in questa stagione, Goumet invece zero assist e zero gol. Diciamo che, e lo vediamo anche con Brozovic, è un ruolo che richiede più sacrificio che presenza in fase offensiva. Quindi, difficilmente Brozovic partecipa nelle fasi conclusive di un'azione da gol. Stesso discorso per Lusena Goumet. Può migliorare da quel punto di vista, quantomeno per quanto riguarda gli assist. I tocchi li abbiamo visti. Anche chance create, in questo caso, però, c'è un pareggio. Una chance, una grande chance da gol creata a partita, sia per Brozovic che per Goumet. Passaggi chiave, invece, 0,5 per Goumet a partita. Un passaggio chiave di Brozovic a partita. Per cui, insomma, questo è dove può migliorare Lusena Goumet, senza dubbio. Un ritorno all'Inter è possibile? Sì, ma ci sono delle cose, dunque, sulle quali lavorare. Ma faremo, alla fine, un bilancio conclusivo. Goumet sul mercato va affrontato anche questo tasto, perché l'Inter, sappiamo che avrà bisogno di fare delle uscite, di far cassa la prossima estate. Si parla di 60-70 milioni di euro dal mercato. L'idea dell'Inter è di non sacrificare un big, un top player. Si è parlato di Lautaro Martinez, Varella, Screener, Bastoni. Insomma, quei calciatori che potrebbero garantire una cifra importante sul mercato. L'Inter vorrebbe evitare di replicare la stessa strategia dello scorso anno, ma la scorsa estate era diversa, perché l'Inter ha bisogno di remunerare ancora di più rispetto a quest'estate. Invece, quest'anno c'è bisogno di una liquidità pari a 60-70 milioni. L'Inter, quella cifra, la può raggiungere, invece, tramite la cessione dei propri giovani talenti. Pinamonti, che sta facendo bene, ti può garantire 25-30 milioni. Si parla anche di qualcosa in più, visto che ha fatto bene, già ha 12 gol in questa stagione. Nel caso di Agumet, l'idea dell'Inter è di trattenere il ragazzo per il quale ha investito tanto, lo ha rinnovato fino al 2025 la scorsa estate, quindi l'Inter chiaramente vuole scommettere sul giocatore. Però, nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta superiore a 10 milioni di euro, a quel punto l'Inter potrebbe discuterne, quantomeno con i club interessati. In passato avevamo parlato più volte del Bayern Monaco, che effettivamente il Bayern Monaco aveva sondato la pista Agumet, ma l'Inter non era ancora propensa ad un'apertura. Ultimamente si è parlato del Sassuolo, ma non ci sono grandi conferme. Col Sassuolo però qualcosina in effetti potrebbe nascere, visto che l'Inter è interessata a diversi calciatori del Sassuolo. Il Sassuolo potrebbe comunque andare su Agumet in una trattativa separata, rispetto a vari frattesi, Scamacco, Maxime, Lopes, visto che il Sassuolo su questi giovani ci scommette spesso. Quindi potrebbe optare per un'operazione del genere. Il club che in questo momento sembrerebbe essere più interessato rispetto agli altri, e ci sono arrivate conferme in tal senso, è il Lione. Comunque Agumet tutto sommato ha fatto bene, in Ligan, come bilancio complessivo. Può crescere chiaramente, non è stato ancora decisivo, però già trovare continuità di rendimento è importante per un ragazzo che male non ha fatto. Quindi partiamo da questo presupposto, il Lione si è interessato. Dunque, l'Inter lo vuole trattenere, si arriva a una proposta abbastanza allettante, quindi tra i 10-15 milioni di euro, può fermarsi a ragionare, quantomeno valutare tutte le opzioni per il futuro di Luciano Agumet. In conclusione, rimangono, secondo me, tre prospettive per Luciano Agumet, banalmente. La prima, sul mercato in uscita. L'Inter ha bisogno di far cassa, di incassare 60-70 milioni dal prossimo mercato. Agumet rappresenta una grande opportunità di plusvalenza, e di liquidità che in questo momento serve all'Inter. Secondo scenario, rimane all'Inter da terza scelta del centrocampo. Vale a dire, l'Inter comunque in quel ruolo lì va ad investire su un altro profilo. Un Paredes, Rodrigo De Polsi, è parlato dei due argentini, ma non solo. Altre possibilità, come Ceca, che gioca in Francia, nel Lille, come Veretua, ad esempio, anche Lo Costo, rispetto ai due argentini, ed eventualmente tenere come terza scelta per il centrocampo Agumet in Rosa, e sperare che il giocatore possa comunque crescere con lavoro quotidiano, sotto la mano di Inzaghi, e poi ricevere le varie opportunità durante la stagione. Un'altra possibilità, la terza ed ultima, quella di un nuovo prestito. In questo caso, presumibilmente nuovamente in Serie A, come già avvenuto due anni fa, però con tutta altra esperienza, con una maturità diversa, sempre in una squadra di medio-bassa classifica, in questo caso, però con la garanzia che il giocatore possa giocare, possa crescere anche nel campionato italiano. Per cui, prima di concludere, vi chiedo, voi cosa fareste con Lucian Agumet, perché è un giocatore che piace tanto, lo sentiamo sempre nelle nostre live, ci arrivano tantissime domande sul ragazzo, se l'Inter lo tratterrà o meno, in questo momento le idee non sono chiarissime, però chiedo a voi cosa fareste in ogni caso. Ne approfitto per ricordarvi che, anche questo pomeriggio, saremo in diretta, come ogni giorno, dalle 19.30, giorno post partita, quindi parleremo tanto di Bologna-Inter, della gara di ieri sera, e vi ricordo anche, prima di, innanzitutto, di iscrivervi al nostro canale, Passione Inter, e se siete arrivati fino a questo momento del video, di commentare con una bandiera della Francia, visto che abbiamo parlato di Lucian Agumet in questo video, quindi emoji qui in basso, nei commenti, della bandiera della Francia. Se vi è piaciuto, poi, infine, questo approfondimento, o, insomma, tutti gli approfondimenti che facciamo quotidianamente sul nostro canale YouTube, vi invito anche ad abbonarvi per avere altri contenuti speciali che sono riservati ai nostri abbonati, ma abbonarvi anche per avere accesso a tanti vantaggi, la possibilità, ad esempio, di intervenire tutti i giorni alle 19.30 in diretta con noi, di entrare a far parte del nostro gruppo Discord, del club di Passione Inter, la community più grande sul mondo nero-azzurro. lo potete fare tramite il tastino abbonati che trovate qui in basso oppure sul sito passioneinter.club. È tutto con il contenuto di oggi, alla prossima, ciao!